Il traguardo, il momento che stiamo vivendo oggi richiede ancora una volta che la parola di Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non sarò io a parlare, ma è questa parola che vuole parlare a voi, vi intende tracciare una strada, un percorso. Nel rito proprio del matrimonio ci sarà quel momento altrettanto significativo nel quale tutti e due congiungerete la vostra mano destra che idealmente non si staccherà mai più, perché da oggi camminate sì insieme ma in un modo diverso, in un modo del tutto nuovo, in un modo completamente diciamo senza precedenti. Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non si staccherà mai più, Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non si staccherà mai più, Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non si staccherà mai più, di Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non si staccherà mai più, di Dio venga messa al centro dell'attenzione e dunque non si staccherà mai più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.